Grazie Laura. Allora, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Ok, ora li condivido. Si vede? Sì. Sì. Ok. Benissimo. Allora, dicevo buongiorno a tutti. Innanzitutto, mi sono permesso in questa presentazione di inserire alcune slide prettamente didattiche. So che è un consesso prettamente tecnico, però ci sono anche amministratori, appunto, immaginando anche di avere qualche uditore in più, ho preferito inserire appunto qualche considerazione generica per contestualizzare al meglio quello che poi vi andrò a raccontare, e quello che è emerso nel corso della realizzazione dello studio geomorfologico sull'alveo del fiume Cecina. Ora, innanzitutto quindi partirei con questa premessa, ovvero sapete sicuramente benissimo tutti quanti che un corso d'acqua può essere paragonato ad un nastro trasportatore. Di che cosa? Di sedimenti e di materiale legnoso e di molto altro, però in termini geomorfologici questi due elementi sono quelli che contano e che ci interessano. Un nastro trasportatore perché? Perché i corsi d'acqua sono degli agenti geomorfologici, degli agenti del modellamento, che con la loro azione di erosione, trasporto e deposito smantellano le forme del rilevo terrestre, quindi le aree montane sostanzialmente vanno a modellare le pianure alluvionali e poi anche la zona costiera e quindi i litorali. Quindi il concetto di nastro trasportatore è un po' quello che ci permette di capire come tutte le porzioni, tutte le aree che sono incluse in un unico bacino idrografico sono in qualche modo connesse, sono connesse proprio da queste dinamiche, da questi processi morfologici. Quindi anche aree molto distanti e questo si vede bene con questo esempio, ovvero qui si vede una fotografia della Piena del Po vista dallo spazio del 2000, dove immaginiamo appunto nella pianura padana, immaginiamo il nastro trasportatore, ovvero l'asta fluviale del fiume Po che porta i sedimenti nel mare Adriatico, dove qui si vedono in questo pennacchio di torbida. La stessa cosa, una situazione appunto più recente con le piene del 2019, dove anche qui si vede la torbida in Po e poi l'effetto a mare del nastro trasportatore in tutta la Liguria e nell'Alta Toscana. Qui si parlava di sedimenti fini, qui si parla invece di sedimenti più grossolani, quindi un esempio... Andrea, tieni conto che arrivano un po' in ritardo, non so se a tutti... Ah, ok, grazie Andrea. No, io le vedo bene. No, ok, non mi arrivavano molto dopo, scusate. Ok, comunque provo a regolare allora diversamente. Dunque, qui è semplicemente un esempio, un'applicazione del nastro trasportatore, ma qui si vede un'evidenza legata a che cosa? Al sedimento grossolano. E quindi, per esempio, appunto a Genova, la foccia del torrente Cerusa, prima e dopo un evento intenso di precipitazione, vediamo come si è cambiato il profilo di spiaggia e quindi si sia formato qui, dal tratto tombato, diciamo, esce qui il torrente Cerusa e vediamo la formazione di questo lobo di sedimentazione appunto. Ora, gli effetti del nastro trasportatore, le evidenze dell'attività del nastro trasportatore, chiaramente non si vedono solo a mare, ma si vedono lungo tutta l'asta fluviale principale del bacino e lungo tutte le aste fluviali secondarie, quindi lungo tutti i laterali tributari. Una chiara evidenza è proprio la dinamicità, il continuo modellamento dell'alveo fondomobile, quindi ad ogni piena materiale viene portato via e materiale arriva. In questo caso si vede molto bene un fronte di barra in avanzamento che va a coprire la barra precedentemente vegetata da queste formazioni erbacee. Questa slide si ricollega molto bene a quanto accennava Andrea Goltara, ovvero da dove arrivano i sedimenti, non solo dalle aree montane, ma anche dalle aree di pianura. Quindi dalle aree montane appunto lì avremo i movimenti gravitativi, le frane, l'erosione superficiale che convoiano poi i sedimenti all'interno degli impluvi che successivamente il corso d'acqua li prende in carico e li porta a valle, ma nelle zone anche di alta pianura e di bassa pianura abbiamo un continuo interscambio di sedimenti tra l'alveo e le aree circostanti, con processi di accrezione spondale ma anche di erosione. Quindi questo è comunque importante da considerare ovviamente nel bilancio complessivo del trasporto solido, anche nell'ottica appunto di ripascimento del litorale. Ora, le ultime considerazioni generali sull'alveo, proprio un focus sull'alveo, che cos'è, come viene definito, proprio perché poi ne parleremo abbondantemente nel proseguire della presentazione. Un alveo innanzitutto può essere di diversi tipi, confinato, semiconfinato, non confinato, significa che, prendendo in considerazione per esempio questi due elementi, un alveo confinato è un alveo che scorre entro versanti o terrazzi antichi, che non ha quindi possibilità di mobilità laterale, ovvero è ristretta da questi elementi, quindi sostanzialmente siamo nelle aree montane, mentre un alveo non confinato è un alveo che scorre e si modella entro i suoi sedimenti, quindi siamo nelle aree di pianura. Poi là una situazione intermedia che ben si applica al contesto del Cecina è quella di alveo semiconfinato, dove magari da una parte abbiamo dei versanti, quindi delle rocce affioranti, e dall'altra parte abbiamo invece una pianura alluvionale, quindi una sponda e un'altra. Poi ci possono essere appunto alveo in roccia, alveo a fondo mobile, alluvionali, quelli di cui stiamo parlando, e nel complesso che cos'è l'alveo? Quella porzione di superficie topografica compresa entro le sponde o delimitata da versanti, costituita da unità morfologiche, che possono essere sommerse, emersi o vegetazionali. Che cosa intendiamo con il termine unità morfologiche? Allora, innanzitutto si tratta di barre, isole, canali di scorrimento, le stesse sponde, che possono essere disposte in maniera diversa all'interno dell'alveo, quindi qui vediamo appunto per esempio un alveo multicanale in cui ci sono più di un canale di scorrimento separato dalle barre, qui abbiamo un unico canale di scorrimento con le barre laterali che si alternano, delle sponde in erosione, barre di confluenza, e qui invece vediamo che cosa si intende con il termine isola, quindi porzioni in alveo molto più stabili delle barre, vegetate, dove ci può essere un inizio di pedogenesi e chiaramente c'è un substrato, quindi c'è una granulometria del sedimento decisamente differente rispetto a quella delle barre. Tutto questo ci serve appunto, serve contestualizzare tutto questo insieme di unità morfologiche, per quale motivo? Perché la modalità in cui queste unità morfologiche, questi elementi, si assemblano e si susseguono lungo il tracciato longitudinale del corso d'acqua, sia in senso appunto longitudinale che in senso trasversale, va a definire quella che è la configurazione morfologica dell'alveo. Ci sono varie configurazioni morfologiche, qui si riportano le principali tra le varie classificazioni disponibili, quindi gli alvei anastomizzati, meandriformi, appunto qualcuno ne ha già accennato prima, gli alvei transizionali, quindi gli alvei wandering o pseudomeandriformi, gli alvei a canali intrecciati, gli alvei rettilinei. Vedete che in questo grafico le varie configurazioni morfologiche sono in relazione a diversi parametri. Questo perché? Perché da che cosa dipende la presenza di una configurazione morfologica piuttosto che un'altra, quindi da che cosa dipende sostanzialmente il tipo di alveo? Dipende da una serie di fattori e in primis dalle variabili guida, che sono essenzialmente le portate liquide e le portate solide. Chiaramente in diversi contesti le cose cambiano, ovvero in ambito montano, in alvei confinati, un ruolo molto importante nella definizione delle caratteristiche dell'alveo è giocato, per esempio dalla tettonica, dall'assetto fisiografico, geologico, geomorfologico delle valli in senso lato e dal regime delle portate liquide e di quelle solide. Mentre ovviamente quando si tratta di alvei non confinati, quindi quando siamo nelle pianure di alvei semi confinati, comunque il ruolo determinante è giocato dai rapporti che ci sono appunto tra la disponibilità di acqua, di portata liquida e della disponibilità di sedimenti, unitamente a quelle che sono le condizioni al contorno, quindi la vegetazione, la granulometria, la tipologia di sedimento, la pendenza e quindi tutti questi aspetti diciamo al contorno che riguardano la fisiografia della valle. Le variabili possono ovviamente subire delle variazioni che possono essere impulsive, discontinue oppure progressive. La cosa importante è che a variazioni delle variabili di controllo corrispondono delle risposte geomorfologiche del corso d'acqua perché il corso d'acqua cambia in seguito a variazioni delle variabili perché il corso d'acqua cerca sempre un equilibrio, un equilibrio morfologico di tipo dinamico, ovvero al cambiare delle variabili di controllo, delle condizioni al contorno, come ben espresso dallo schema della bilancia di Lane, noi avremo la prevalenza di un processo piuttosto che di un altro, quindi di un processo di incisione piuttosto che di sedimentazione, finché non si ripristina un determinato equilibrio tra i vari fattori in gioco, tra le forze in gioco, che mi riporta ad una stabilità su ampia scala temporale. Attenzione al discorso stabilità perché un alveo stabile non è un alveo statico. Un alveo statico non è un alveo sostanzialmente, nel senso che gli alvei fluviali sono chiaramente in continua evoluzione. La staticità ovviamente è un concetto che mal si applica all'evoluzione naturale degli alvei, proprio perché? Perché l'alveo è in termini morfologici un agente morfogenetico, cioè è l'espressione del sistema morfogenetico fluviale, quindi in continua evoluzione, perché da quando il sistema morfogenetico è in atto, chiaramente si ha il modellamento dei versanti con erosione, trasporto e deposito, e questo continua inesorabile. Ora, procedendo al nostro discorso, da una situazione di questo tipo di sistema fluviale, diciamo naturaliforme, si è passato a questo sistema, ovvero abbastanza, molto, talvolta molto impattato dagli interventi antropici, che sono stati nell'alveo inciso, nella fascia di pertinenza fluviale e nel bacino in senso lato. Sono molti gli interventi antropici che sono stati eseguiti, ma sostanzialmente le conseguenze sedimentarie sono state la riduzione delle portate solide e la disconnessione dei flussi solidi. Questo ha comportato chiaramente uno squilibrio in quella che, se ricordate, la bilancia di lenti che abbiamo visto fa, uno squilibrio verso i processi erosivi. Si è verificato quindi negli ultimi anni, in particolare negli ultimi due secoli, ma marcatamente dagli anni 50 in poi, quindi dal boom economico, un forte restringimento, una forte incisione degli alvei in tutta Italia e non solo, anche in Europa sono moltissimi i casi documentati in tal senso. Questi hanno portato chiaramente a variazioni di configurazione morfologica, come vedete qui dagli esempi riportati, per esempio per il Panaro, per il Sesia ed il Po, è una riduzione della costa proprio perché è un arretramento, quindi della linea di riva, per mancanza del continuo rapporto sedimentario. Appunto, un recente studio ha messo insieme i dati di moltissimi fiumi italiani appunto indagati, analizzati nel corso degli ultimi decenni dal punto di vista delle variazioni morfologiche. Il Cecina, vedete che in gran parte dei corsi d'acqua indagati si è stata nel periodo di tempo considerato, quindi gli ultimi due secoli e poi dagli anni 50 in poi c'è stato prima un restringimento, un'incisione e poi un forte restringimento e forte incisione. Recentemente è documentata appunto a livello complessivo un allargamento e talvolta una gradazione. Anche il Cecina è compreso in questa lista, appunto in questa nuova pubblicazione, perché è stato precedentemente studiato da vari gruppi di geomorfologi. La dottoressa Simoncini per esempio è presente tra gli autori, quindi tra gli uditori, quindi sa sicuramente meglio di me tutto quello che è stato il pregresso nell'evoluzione morfologica e negli studi morfologici, ma abbiamo un punto di domanda appunto nell'ultimo periodo, proprio perché gli studi finiscono, sono stati condotti fino ai primi anni del 2000 e ora vediamo che cosa è successo recentemente. Nel complesso queste dinamiche morfologiche documentate a livello italiano e non solo si sono tradotte in questo schema, ovvero sono ben rappresentate qui, se è stato una forza incisione, un restringimento, un cambio di configurazione morfologica e tutto questo ha portato poi ad una banalizzazione dei sistemi fluviali in termini di habitat e forme, ha ricaduto in termini di pericolosità geoidrologica perché chiaramente questa variazione di alveotipo comporta una minore capacità di laminazione, minori tempi di corrivazione e instabilità geomorfologica associata alla maggiore capacità erosiva. Nel complesso c'è stato un aumento del rischio geoidrologico, soprattutto come diceva appunto Laura Leone, associato ad un aumento dei beni vulnerabili esposti. Ora questo cappello introduttivo per discutere del Cecina, tralasciando gli aspetti generici di cui ha già parlato Stefania Gatti, che appunto conoscete benissimo, vediamo lo studio in dettaglio che ha avuto come obiettivo quello della valutazione dell'evoluzione morfologica storica recente e della qualità morfologica dell'alveo appunto del fiume Cecina. Questo studio si è basato sulla una raccolta ed una revisione dei dati bibliografici esistenti su dell'analisi in ambiente GIS e sul rilevamento appunto di terreno. Tutto questo ha consentito di condurre un'analisi multitemporale del trasferito planimetrico e poi ovviamente ha portato l'applicazione dell'indice di qualità morfologica. Ci sono state varie fasi di lavoro e per quanto riguarda i tracciati planimetrici dell'alveo sono state utilizzate per la ricostruzione delle tendenze, delle fotografie aeree, quindi le ortofoto degli anni che vedete elencati qui in basso, in basso a sinistra, come periodo di tempo appunto si è andati dal 1954 fino al 2019, quindi qualcosa di molto recente. Le immagini 54 e 2019 sono state utilizzate non solo per l'analisi multitemporale della sequenza appunto, ma anche per la definizione della qualità morfologica. Le analisi in GIS sono state svolte in QGIS, è stato molto utile ovviamente il portale geoscopio di Regione Toscana dal quale sono state tratte gran parte delle immagini utilizzate. C'è stata una digitalizzazione manuale dell'alveo attivo alla scala di 1.500 e poi successivamente una serie di analisi tramite geoprocessing vettoriale e calcolo dei parametri morfometrici di base. Il tratto indagato è quello che appunto corrisponde alla porzione di Cecina ben analizzabile tramite tecnologie di remote sensing, quindi con dati da fotografie aeree eccetera e quindi corrisponde all'altratto dal ponte della SP34 fino alla foce. Ora solo appunto l'introduzione è solo un accenno, l'IQM è stato applicato perché serve per capire qual è lo stato di salute dei processi morfologici del corso d'acqua, quindi permette di consentire qual è lo scostamento delle condizioni attuali rispetto ad un certo stato di riferimento. L'IQM si applica a dei tratti morfologici, quindi delle porzioni d'alveo con caratteristiche geomorfologiche omogenee, quindi chiaramente c'è stato in primis una ripartizione dei tratti, del corso d'acqua, del tratto complessivo investigato nei tratti funzionali all'applicazione degli indici e alla valutazione della dinamica morfologica. L'indice è composto da una serie di indicatori che poi sono stati risolti, quindi bisogna sostanzialmente assegnare un determinato valore a ciascun indicatore in funzione appunto della sua, del suo livello di qualità. Gli indicatori si focalizzano su continuità, morfologia e vegetazione in ottemperanza ai disposti della direttiva quadroacque. Ora, quali sono stati i tratti omogenei? I tratti omogenei anche per una, questo tipo di analisi che è abbastanza a breve termine, soprattutto per quanto riguarda determinati aspetti, sono stati individuati in 11 appunto elementi, vedete qui rappresentati nella nella carta la ripartizione del tratto studio, quindi la sua suddivisione in tratti. Due tratti sono confinati, cinque sono semiconfinati, quattro non confinati. In questa tabella sono riportate appunto le larghezze medie, quindi vediamo che si va dai valori minori, insomma intorno ai 25-30 metri nei tratti confinati, mentre valori maggiori ma nemmeno troppo nei tratti, come larghezza media, nei tratti verso valle, semiconfinati e non confinati. Riportiamo poi qui le tipologie di alveo che sono essenzialmente tratti con alveo sinuoso a barre alternate oppure sinuosi, e sinuosi sono appunto concentrati nella parte bassa, quindi da Monte Scudaio in giù per intenderci verso valle. Per quanto riguarda l'evoluzione morfologica vi ho riportato alcuni esempi prima di passare ai dati quantitativi, qui vediamo appunto, siamo a località piano del Coiolo, vediamo le variazioni morfologiche dell'alveo del Cecina e in particolare si può notare come mantenendo poi l'alveo del 54 digitalizzato appunto sulle varie immagini successive a tale periodo, vediamo poi qual è stata la variazione e la imponente riduzione di larghezza dell'alveo e anche di configurazione morfologica, nel senso che da qui, in questo caso, si è passati da un alveo wandering di tipo transazionale, quindi ci sono più canali, ci sono porzioni abbastanza estese vegetato e poi ovviamente il tratto non è solo questo riportato ma si estende ulteriormente verso valle, ad una situazione molto molto diversa, appunto di alveo più inciso e con un unico canale stretto, qualche barra alternata che poi tende a sparire verso valle. Vediamo ancora, qui siamo nel tratto 4 tra il possera, tra la confluenza del possera e del fosci e qui di nuovo negli anni 50 avevamo questa situazione, un alveo più rettilineo, se vogliamo, molto più ampio che poi tende a cambiare, assistiamo in questa zona ad un aumento della sinusità e alla diverse destinazioni delle aree, molte aree che prima erano appunto incluse all'interno dell'alveo. Qui siamo a Monte di Pontiginori dove vediamo di nuovo la nostra sequenza temporale di immagini nel tratto 6, vediamo come nel 78 si vedono già importanti fenomeni di mobilità rispetto a quello che era l'alveo del 54, quindi variazioni planimetriche, queste aree poi man mano, se considerate per esempio questa zona, sono state nuovamente abbandonate dal corso d'acqua ed ora vengono riprese dal corso d'acqua interessando magari anche qualche area rimitrofa che tuttavia se vedete per esempio in questa zona era già stata interessata da determinati processi di arretramento spondale o comunque di interessamento da parte della dinamica fluviale, quindi chiaramente anche questa tipologia di analisi ci permette di capire che cosa ne è stato del territorio fluviale e delle aree adiacenti all'alveo in senso stretto. Scendiamo ancora verso valle, siamo nel tratto 8, prossimità di Casino di Terra, poca valle di Casino di Terra dove c'è una delle ansie più studiate del Cecina, nel senso che qui questo è un caso studio, questa erosione spondale che si è formata negli ultimi decenni è un caso studio in molti articoli appunto di importanti geomorfologi che hanno studiato in queste terre, si vede appunto che tra il 54 e il 78 per esempio si ha l'introduzione di nuovi elementi nel paesaggio fluviale che sono questi pennelli, è uno dei pochi casi del Cecina in cui ci sono queste tipologie di difesa spondale e in seguito all'introduzione di questi pennelli chiaramente ovviamente non si può dire è colpa loro appunto e basta, però è ormai più che risaputo e più che consolidato che è l'introduzione di strutture rigide comporta poi lo spostamento a valle del problema della capacità erosiva e quindi già nell'88 si vedeva l'inizio dell'erosione spondale in sinistra che poi è andata avanti e ad oggi però abbiamo una situazione che sembra essersi stabilizzata, si sono stati fatti anche degli interventi nel limite di monte appunto dell'erosione spondale. Infine andiamo verso Cecina, qui siamo in corrispondenza di mandriacce basse, ora io ho usato i termini della CTR, in alcune zone era segnato mandracce, qui era mandriacce basse quindi perdonatemi in caso di qualche errore legato ai toponimi in senso stretto. Vedete l'alveo come è cambiato molto, moltissimo dagli anni 50 al periodo più recente e la riduzione di larghezza qui è veramente significativa e drammatica. E invece qui alla fine siamo appunto arriviamo a Marina di Cecina dove in termini di larghezza dell'alveo non abbiamo variazioni imponenti, abbiamo sicuramente variazioni in termini di presenza di barre, non solo in questa zona ma in tutto il tratto basso, perché negli anni 50 si era evidente la presenza di un quantitativo maggiore di sedimento, la disponibilità di più sedimenti proprio perché vi erano molte barre comunque in tutta la zona, ad oggi il contesto è molto molto diverso e poi si assiste appunto alla crescita dei beni esposti sostanzialmente quindi del tessuto urbano e alla modifica della focce con le strutture appunto connesse. Passando ad un'analisi un po' più quantitativa, in questi grafici vedete riportata la lunghezza dell'alveo, l'area e la larghezza media per ciascun tratto nel tempo. Non si registrano variazioni significative di lunghezza come si evince ma viceversa vi sono appunto complessive significative riduzioni di area e di larghezza dell'alveo. Tra il 54 e il 2019 abbiamo una riduzione di circa 60 ettari nel tratto 2 per esempio, di nuovo 66 ettari nel tratto 4 e qui vedete appunto i valori massimi e un certo range negli altri valori. Anche nei tratti confinati si assiste ad uno ovviamente lieve perché siamo nei tratti confinati ma un lieve restringimento e quindi perdita di larghezza e di superficie d'alveo. Dal 2013 però si registra un'inversione di tendenza ovvero con un necessario distinguo alla scala di tratto però marcatamente tra i tratti 4 e 7, quindi siamo in questa zona, dalla fine del tratto confinato fino a Monte Scudaio dalla Steccaia si registra un'inversione di tendenza e quindi un allargamento seppur lieve dei tratti. Parlando ovviamente di larghezza dell'alveo è bene considerare secondo me questo grafico che riporta le variazioni in percentuale della larghezza dell'alveo in ogni periodo sempre in relazione alla larghezza del 1954. In particolare vediamo che c'è stato alla situazione attuale è più stretta del 50% di più del 50% in 7 su 11 tratti e di più del 40% in 11 su 11 tratti, quindi la totalità. La riduzione massima di larghezza c'è stata nel tratto 10 del 77% e anche il tratto 2 non scherza con un meno 76%. Appunto si registrano queste inversioni di tendenza in particolare nel T4 e T7 che però sono ben lontani dal raggiungere la situazione precedente che una specifica non deve essere presa come condizione di riferimento ma è un riferimento diciamo relativo per capire che cosa è successo ma non significa che bisogna ovviamente puntare a quella condizione di riferimento in maniera statica perché altrimenti perderemmo appunto di vista il concetto base che è quello di equilibrio dinamico del corso d'acqua e non di riportare a situazioni stabili e statiche. Per quanto riguarda poi i rapporti planimetrici di sovrapposizione l'area abbandonata dell'alveo del 54 ha rispetto all'attuale appunto valori molto molto alti in percentuale e allo stesso modo l'area dell'alveo attuale che coincide con l'area dell'alveo del 54 assume questi valori in percentuale e in particolare molto molto alta più del 90% dal tratto 8 in giù quindi vuol dire che proprio non si è spostato e si è solo ristretto mentre nei tratti stessa cosa nei tratti confinati per ovvi motivi negli altri tratti comunque abbiamo una scarsa mobilità laterale e un maggiore restringimento quindi come tendenza generale. Ora dal punto di vista delle variazioni altimetriche l'alveo è stato interessato da un processo di incisione chiaramente ma moderata mediamente di 1-2 metri in alcuni punti probabilmente fino a 3 metri. Questo nella seconda metà del ventesimo secolo come già riportato anche da studi precedenti e da opere che sono state realizzate per esempio proprio al piano del coiolo con tutta la serie di soglie proprio in contrasto all'erosione di fondo. Quindi che cosa c'è stato? C'è stato un forte restringimento e una moderata incisione che hanno portato a variazioni di configurazione morfologica che nella parte medio alta sono consistite in una progressiva perdita di morfologie transizionali associata alla presenza appunto di più di un canale a favore di alveotipi marcatamente monocursali mentre nella parte bassa abbiamo avuto la scomparsa di barre. Le cause sono state identificate nella riduzione della disponibilità sedimentaria e quindi qui ci colleghiamo con il discorso appunto generale cioè un po' come è successo in gran parte dei corsi d'acqua italiani. Per quali motivi per l'escavazione in alveo come già accennato da Stefania Gatti, le variazioni di uso del suolo, una certa diminuzione delle piogge che in studi e progressi hanno appunto evidenziato una riduzione delle portate di piena in grado di mobilizzare il sedimento. Recentemente però qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato nel senso che abbiamo questa fase localizzata in alcuni tratti in cui prevalgono le tendenze all'allargamento. Bisognerebbe capire verticalmente cosa accade nel senso che se abbiamo questo allargamento significa che c'è un nuovo input sedimentario localizzato legato appunto all'erosione spondale. Ma questo è ancora localizzato oppure si sta spostando e il nastro trasportatore riesce già a spalmarlo lungo l'asta fluviale? Bisogna ovviamente capire ancora qual è l'effetto di queste nuove dinamiche ancora non generalizzate. Quali possono essere le cause? Allora in base anche ai numerosi studi effettuati non solo lungo il Cecina ma le evidenze bibliografiche generali, questa fase di allargamento recente che in alcuni altri corsi d'acqua è iniziata a fine anni 90, qui invece è molto molto tardiva, è stata identificata come la risposta del corso d'acqua alle alterazioni che ne hanno influenzato la dinamica e la morfologia del secolo scorso e quindi è sostanzialmente una risposta alle variazioni di geometria dell'alveo e ad un aumento della capacità erosiva. Ora ci avviamo verso le ultime slide. In termini di qualità morfologica l'IQM esprime quello che appunto è stato evidenziato dal confronto e dalla ricostruzione dell'evoluzione storica a breve e medio termine. Qui vedete l'elenco della tabella riportante i tratti e gli indicatori applicati associati alle relative classi. Scarse o nulle criticità ci sono con la lettera A mentre le criticità maggiori si avranno con la lettera C. Ora vediamo come la funzionalità morfologica è un qualche cosa di maggiormente critico nella parte più bassa ovviamente che non è solo quella antropizzata ma anche a monte di quella maggiormente associata appunto al tessuto urbano e all'antropizzazione. Vediamo come la presenza di piana inondabile sia un punto abbastanza dolente perché questo? Proprio perché la piana inondabile o non c'è nei tratti piovale oppure c'è ma è poco sviluppata e decisamente discontinua. Questo proprio in relazione alla storia, all'evoluzione morfologica documentata cioè di incisione e restringimento. Anche per quanto riguarda la presenza di formazioni funzionali sono ben sviluppate in senso longitudinale ma non sono ampie. L'artificialità viceversa è un qualche cosa di positivo per i cecina nel senso che è abbastanza scarsa. Ci sono appunto qualche evidenza di criticità soprattutto nei tratti bassi legati ai principali sbarramenti e il tasto dolente è l'indicatore a 10 che appunto riguarda la rimozione dei sedimenti che è stata abbastanza diffusa e intensa lungo l'intera asta fluviale. Infine le variazioni anche in questo caso le abbiamo viste abbondantemente e si tratta di variazioni altimetriche, planimetriche e nel senso planimetrico sia restringimento che cambio di configurazione morfologica. Tutto questo è ben evidenziato dai grafici e degli indici verticali e orizzontali, dei subindici dell'indice di qualità morfologica. Si vede bene che l'artificialità e la criticità minore, la funzionalità chiaramente è maggiore nei tratti da T3 a T8 e poi tende a scendere e le variazioni sono l'aspetto maggiormente critico e tutto questo si rispecchia nel subindice orizzontale di morfologia che assume appunto i valori minori. Per quanto riguarda la frequenza anche qui la classe C, quindi dove le cose non vanno bene chiaramente si rispecchia maggiormente come frequenza delle classi negli principali indicatori di funzionalità e in quelli di variazioni morfologiche. In definitiva queste sono le classi di qualità IQM dei tratti indagati, abbiamo un tratto buono che è il tratto 3 e poi la zona diciamo del masso delle fanciulle e poi molti tratti in buono e tre soli tratti in moderato sufficiente. Il primo, cioè il tratto 2 moderato sufficiente, le sue criticità sono essenzialmente legate a fortissima incisione, cambio di configurazione morfologica, quindi sempre ad una storia passata per così dire e nel tratto invece 10 e il tratto 11 sono legate sia ad una storia passata ma anche chiaramente al contesto territoriale che attraversano. Infine due o tre considerazioni gestionali, nel senso che chiaramente è ormai ampiamente conosciuto che la conoscenza delle dinamiche morfologiche passate e correnti sia un aspetto fondamentale per la definizione delle misure gestionali sostenibili ed efficaci. Questo deve corrispondere al perseguire degli obiettivi gestionali specifici del corso d'acqua, cioè chiaramente sapendo cosa si vuole fare di quel corso d'acqua io devo capire che cosa è successo precedentemente per andare a pesare e a definire le misure gestionali. Deve essere chiaro ovviamente in termini generali che non esiste un metodo, un criterio unico e sicuro per risolvere i problemi del dissesto idrogeologico, come da citazione, perché ogni caso è un caso a sé stante. Nel complesso le indicazioni gestionali che valgono un po' per tutti sono quelli appunto di accrescere la consapevolezza della popolazione in merito ai temi fluviali, di imporre o comunque di far rispettare il vincolo dei luoghi soggetti a pericolosità geodirologica, non avere ulteriore impermeabilizzazione del suolo, dare spazio ai corsi d'acqua e poi per quanto riguarda la manutenzione sono necessari parecchi distinguo e li vedremo nella successiva slide. La cosa fondamentale è che occorre considerare l'unitarietà del bacino idrografico, questo è molto molto importante e si ricollega al discorso del nostro trasportatore. Questo è il fondamento della difesa del suolo perché giustamente stabilisce la prevalenza dei limiti geomorfologici ed idrogeologici su quelli amministrativi, quindi senza scaricare sempre a valle il problema. Spesso con la gestione fluviale tradizionale si fanno interventi spot, opere spot, non è la cosa ottimale, non è da fare così proprio perché si perde di vista l'obiettivo principale che è quello della gestione a scala di bacino, cioè alla scala appropriata, anche per l'efficacia e l'efficienza, la sostenibilità, il fatto di poter durare nel tempo dei interventi che vengono effettuati. La gestione dei sedimenti è un qualcosa di molto molto ampio, non deve essere limitata a un singolo intervento, cioè non deve essere intesa come un intervento o come la rimozione dei sedimenti, è un ampio aspetto di attività volto alla riduzione del rischio e alla tutela del recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Tutto questo deve essere fatto a scala di bacino, come diceva appunto Andrea Goltara è chiaro che ci sono conflitti, i conflitti di cui accennava l'ingegner Caponi. Il piano di gestione dei sedimenti, il programma di gestione dei sedimenti ai sensi di legge è chiaramente la giusta misura per avere una visione d'insieme del problema, un approccio sistemico a quello che è il bacino idrografico nel suo complesso. Per quanto riguarda il Cecina appunto occorre questa strategia gestionale, nel complesso questa scarsa artificialità nel senso IQM può essere un punto di forza nella gestione del sistema fluviale anche a fronte appunto degli obiettivi diciamo della VFD. Chiaramente deve essere mantenuto e per quanto riguarda la gestione dei sedimenti occorre quantificare per gestire, quindi è necessario appunto questa analisi della dinamica sedimentaria alla giusta scala. Queste rilevanti criticità emersi in termini di incisione storica dell'alveo, di disconnessione dell'alveo, tra l'alveo e le pianure adiacenti, la banalizzazione delle forme chiaramente ha portato a questa nuova dinamica morfologica, questa riattivazione dei processi in certi tratti e questo è un problema, una risorsa, chiaramente provocatorio, l'ingegner Caponi diceva un grosso problema per i conflitti. Certo che in questi termini lo è, ma questo è anche un approccio multiobiettivo, erosione, conflitto. Il piano di gestione dei sedimenti può, come diceva appunto Andrea Goltara ed è il concetto che ho riportato in questa slide, consentire la definizione di misure tali per cui i conflitti si vanno a risolvere. Proprio con la definizione delle fasce il Cecina si applica, diciamo che per le sue caratteristiche è molto, può essere un caso studio molto molto idoneo a questa pratica, a queste definizioni di misure, quindi si possono fare zonizzazioni, priorizzazioni, negoziazioni proprio per capire dove lasciare erodere e dove no. Questi chiaramente sono indirizzi di massima da contestualizzare in un quadro gestionale a lungo termine, multiobiettivo, efficace e sostenibile, altrimenti non lo può essere, chiaramente. Grazie mille. Grazie Andrea, direi che di spunti ce ne sono veramente tantissimi. Lascio a voi la parola per sentire quali sono le reazioni rispetto alle cose che abbiamo visto che non erano proprio scontate rispetto a quello che ci si aspettava. Sono andato un po' veloce, scusatemi, ma era per dire tutto e non sforare troppo. Va benissimo, va bene Andrea. Comunque tanto la presentazione rimane. Non c'è problema. Io volevo dire una cosa ad Andrea Mandarino che mi ha fatto molto piacere vedere il suo studio perché raramente si vedono studi così accurati insomma e che prendono in considerazione tanti aspetti della geomorfologia. Non è neanche facile farli e quindi mi fa piacere che sia stato portato a termine. Cercheremo di usarlo anche nell'autorità di bacino perché comunque anche noi cerchiamo di ragionare un po' come diceva Laura, insomma un modo un po' più integrato non solo dal punto di vista idraulico, ma la difficoltà spesso è quella di trovare misure degli altri aspetti. Quindi per la geomorfologia benissimo l'IQM e quindi può essere un punto di partenza. Manca sempre un po' la parte più ambientale ed ecologica perché è vero che vengono fatti monitoraggi dello stato ecologico e chimico, ma sono poco diffusi. Per esempio per il Cecina sono tre o quattro punti di monitoraggio e poi ci chiediamo sempre sì ok lo stato ecologico macroinvertebrati e tutte le varie componenti. Però da un punto proprio di vista di habitat, di funzionalità fluviale, cos'è che dobbiamo misurare noi per poi farlo, cioè metterlo ad esempio in un intervento integrato oppure metterlo in un programma di sedimenti? Quali sono i vari parametri da considerare? Sicuramente per la geomorfologia il tuo studio potrebbe essere utilissimo anche nel programma di gestione dei sedimenti, però come dicevi te accanto ad un'analisi quantitativa, quindi bilancio dei sedimenti fatto con metodi idraulici e una parte di ecosistema, di ecologia, che però non è così ben definito. Quindi c'è anche un po', non lo so, magari voi avete già qualche idea, sia come come Cirf, anche Laura che se ne occupa da una vita, quali possono essere questi, cioè sulla bilancia cosa mettiamo? Da una parte i modelli idraulici, i modelli geomorfologici e dalla parte più diretta dell'ecosistema cosa ci mettiamo? Insomma sono domande che ci facciamo anche noi all'interno dell'autorità di vaccino, insomma, mi piace, mi è piaciuto sentirle stamani perché a volte sembra quasi di essere solo noi a ragionarne di queste cose, invece vedere questo mi ha fatto piacere, insomma. Grazie Cristina per le sollecitazioni. Prima di lasciare la parola ad Andrea che sicuramente ci dà indicazioni sulla questione del monitoraggio, perché lo vedo che si è già attivato, una questione è che le questioni che poni sono importantissime, tra quelle, la primissima che hai evidenziato, i punti di monitoraggio sono pochi. Effettivamente una delle problematiche che abbiamo evidenziato in regione e anche in ARPA è legata alla lunghezza di questi corpi idrici, che sono veramente molto lunghi, prevedono un unico punto di monitoraggio ed effettivamente lasciano un po' il tempo che trovano. La revisione di questi punti e quindi la riduzione dei corpi idrici è una problematica ulteriore perché implica ulteriore onere a carico delle agenzie che già poco riescono a risolvere i problemi interni e ad applicare il monitoraggio, tanto è vero che ci sono accorpamenti di corpi idrici e quindi il monitoraggio è anche, se vogliamo, ridotto. Al di là di questo, che è di per sé una problematica, c'è il problema di quali indici effettivamente possono essere utili, perché una delle cose che diciamo è che gli interventi di riqualificazione fluviale effettuati ad una scala di bacino vanno a migliorare lo stato ecologico. Siamo proprio sicuri che gli indici della direttiva vadano a migliorare nel momento in cui vado a effettuare questo tipo di interventi ed eventualmente invece quali sono gli indici che potrebbero essere utili. Andrea vuoi dire qualcosa su questo? Ma credo che serva una giornata, n giornate ad hoc su questo tema che è molto complesso. È chiaro che c'è un problema di quali indici usiamo e già un primo step potrebbe essere quello nei piani di gestione di usare la fauna etica che ancora nonostante ci sia. Non so, forse ci sai dire tu se nell'aggiornamento dei piani verrà finalmente utilizzato oppure verrà ancora lasciato da parte. Questo sarebbe un piccolo passo. Chiaro che ci sono tutto il tema della modellizzazione di habitat non solo acquatici ma anche terrestri, è un tema molto complesso che dovremmo sviluppare. Però un primo passo può anche essere quello appunto di usare come proxy degli indici più geomorfologici assumendo che se ripristini certi processi e certe funzionalità più morfologiche questo si porta dietro anche un beneficio ecologico. non è scontato che sia sempre così, non è scontato. Noi abbiamo fatto, ha concluso l'anno scorso un progetto sulla gestione idromorfologica dei corsi d'acqua alpini e avevamo dei casi studio dove erano stati fatti degli interventi di riqualificazione morfologica a scala anche molto ampia con un monitoraggio già di diversi anni e gli effetti ad esempio sulla fauna etica anche nei tratti riqualificati non erano così univoci. Cioè alcune comunità sono migliorate molto altre no e quindi sulla comprensione del perché ci sono molti ragionamenti da fare cioè non non è non è banale ecco mettere insieme i due i due elementi però appunto si credo che ci sono anche diversi progetti interessanti in corso che stanno analizzando alcuni aspetti di questo però tema molto molto complesso da sintetizzare adesso direi però sì c'è chiaro non è quella parte lì prima o poi andrà sviluppato ulteriormente rispetto ai tre indici che alla fine usiamo biotici che già sappiamo che non funzionano per questo scopo ecco. Tra l'altro purtroppo abbiamo anche soltanto un'ora per portare a casa altre due relazioni e altri eh altri concetti per cui purtroppo dobbiamo purtroppo insomma rimandiamo la discussione a ad altri ambiti e sicuramente Cristina lo sai noi siamo disponibili ad affrontare insieme a voi e insieme insomma anche a tutti gli altri eh questa problematica e dal nostro punto di vista insieme al consorzio di bonifica mh che aveva la problematica specifica della gestione della vegetazione abbiamo provato ad affiancare questo a questo studio geomorfologico uno studio vegetazionale che ci permettesse di capire come gestire le due cose eh insieme per cui passerei la parola ad Alessandro Enrico eh che ci parla proprio del dell'approccio che è stato utilizzato nell'ambito del eh fiume Cecina per la gestione integrata della vegetazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.